Questa è una videolettra per l'amico Claudio Martino, che prende spunto da un articolo pubblicato su Qui Magazine del 4 giugno 2010 a pagina 7 dal titolo Stabio, la delusione di stirpe. L'articolo prende spunto da una dichiarazione di stirpe, il padrone del Frosinone, subito dopo la salvezza e la permanenza in serie B del Frosinone, che dice che le istituzioni devono vergognarsi in riferimento alla annuosa vicenda degli stati. Quindi, sullo Stabio, la verità scomoda che non viene a cuori, ma che è sotto gli occhi di tutti, è la seguente. In realtà, questo project financing non lo vuole proprio più nessuno. Non lo vuole la parte politica, quel sindaco Marini che ha mal sopportato questa identità a lasciare da Marsi e che avrebbe preferito soluzioni differenti. Non lo vuole negli ultimi tempi nemmeno la parte imprenditoriale, cioè gli stessi proponenti. Le condizioni mutate del mercato immobiliare, oggi le case di lusso si vendono poco e male, e la rimodulazione del progetto di finanza, nettamente ridimensionato nelle cubature e nei guadagni, rispetto a quello messo in campo da Marsi, hanno frenato gli appetiti. Continua più avanti l'articolo resta. Del resto, la vicenda del multidiovo di Biali-Mazzini e le difficoltà in evento della realizzazione di cubature nell'area peppa hanno freddato i rapporti e soprattutto hanno inclinato il rapporto di fiducia qualche anno fa instauratosi tra amministrazione e mondo imprenditoriale. La tria destorace, Marsi e Zeppieri è soltanto un lontano ricordo. Oggi gli scenari sono completamente ribaltati. Insomma, caro bravo, a quanto pare la vicenda del multipiano di Biali-Mazzini è fatto scuola. D'altra parte c'è forse qualche altro modo in cui l'operazione multipiano poteva essere di interesse economico per il proponente, se non quella di costringere i cittadini di Frosinone Alta, letteralmente costringere a pagare per partoggiare la macchina sotto casa e quindi ricoprendo tutta la parte alta della città di strisce blu. È evidente che no, le condizioni del mercato immobiliare sono cambiate, ma noi questo lo dicevamo, l'abbiamo detto con anticipo, perché siamo tra quelli pochi che hanno detto che quella questione, quei prezzi immobiliari non potevano continuare né a Frosinone, né in Italia, né nel mondo, perché era una cosa proprio fuori dalla grazia di Dio. Il mercato immobiliare è caduto, ne è seguito una crisi economica pazzesca. E adesso Stippe dice che le istituzioni dovrebbero vergognarsi. Stippe dovrebbe ringraziare quelli che si sono opposti a quel progetto, perché oggi ci ritroveremo al centro di Frosinone un cartiere incompleto, palazzoni non terminati e eventualmente i rivestero terminati sarebbero invenduti. E questo sarebbe andato a danno dello stesso proponente, che si sarebbe ritrovato con delle cubature che avrebbe dovuto vendere sotto prezzo, per di più andando a ulteriormente aggravare una situazione urbanistica come quella di Frosinone, che ha bisogno di spazi verdi e certamente non di nuove cubature. Insomma, caro Claudio, abbiamo avuto, come dire, dobbiamo ricoprire la parte dei fessi, perché si sa che in Italia sono i fessi che hanno ragione. Però noi siamo contenti di essere stati fessi, no? Alla fin fine nessuno ci può dire «Ah, voi siete stati tra quelli, siete cambiati idea». Noi sempre abbiamo detto che il multipiano di Armazzini, per come era concepito come progetto, cioè quello di far pagare per 30 anni, costringere a pagare i cittadini per 30 anni per parcheggiare sotto casa, era una cosa inaccettabile, che avrebbe prodotto una rivolta o l'abbandono della parte alta di Frosinone, e infatti non si è potuto fare, e che il progetto degli stadi, questa idea di scambiare la parte centrale, più interessante dal punto di vista di un costruttore della città, in cambio della realizzazione di uno stadio, perché il Frosinone sta in serie B, che quest'anno si è salvato, magari tra un anno o fra due, torna nuovamente in serie C, non credo che si possa mettere in campo un progetto che ha un orizzonte decennale, forse addirittura secolare, mettendo sul piatto della bilancio e fatta della squadra per qualche anno sta in serie B. Questo progetto è stato fermato dai fatti, certamente non da noi, caro Claudio, abbiamo avuto ragione, e quindi, che dire, la triade, come l'ha chiamata, la triade Zeppieri, Marzi, Storace, che aveva messo in cantiere questi progetti, una strana triade, bisogna dire, perché Marzi era ai tempi un compagnuccio, Storace era un cameraduccio, e Zeppieri, e Zeppieri balla a destra e a sinistra, come gli conviene, come è giusto che faccia, da buon imprenditore, l'importante è che tutti capiamo che Arnaldo, Zeppieri, Storace e tutti gli altri sono imprenditori, sono imprenditori e quindi si buttano giustamente dalla parte politica che in qualche modo può avvantaggiarli. Questo è tutto, vi saluto, vediamo se mi rispondi con un'altra videoletta. Grazie a tutti.